Buongiorno a voi, vi presento il mio album disegni per l'autunno. Lo so, l'autunno è quasi finito, ma i disegni sono utili tutto l'anno. Perché ve lo propongo? Perché sta per arrivare il Natale e potreste aver bisogno di un regalo particolare. Questo lo è. Se conoscete qualcuno che ama dipingere, potete regalarglielo oppure regalatelo a voi. Vi faccio vedere i disegni contenuti in questo album. Sono alcuni disegni componibili, altri sono disegni che stanno in una sola pagina. Per esempio questo è componibile, sono diversi rami ed è molto adatto a chi dipinge la stoffa. Anche nel caso di questo, perché montato insieme a questi altri due diventa un rettangolo. Fiori e frutta di solito vengono utilizzati dai pittori di stoffa e questo può essere utile. Non è facile trovare disegni adatti alla stoffa, perché di solito i disegni si trovano di piccole dimensioni. Io invece fornisco disegni di grandi dimensioni. Sono disegni che vanno rimontati. Come vedete qui c'è scritto composizioni di grandi dimensioni, mentre quelli che seguono adesso sono disegni che stanno all'interno di una pagina o meno. Vedete, sono anche più piccoli di una pagina. Ce ne sono tanti e potete usarli come volete. Dipingerli sulla stoffa, su una tela, su un acquarello, sull'angolo di un bigliettino. Sono naturalmente tutti soggetti dedicati all'autunno. Quindi avete visto molte zucche, melograni, fichi, uva, castagne. Ci sono anche cestini. Sono tutti frutti autunnali. Ne sono molti, non li ho contati, ma ne sono davvero molti. E quindi potreste avere un'ampia scelta per realizzare le vostre composizioni. Qui vedete ce ne sono quattro. Ecco le castagne. Cappolo di more che si trova in copertina. E già che ci siamo, vi faccio vedere come ho realizzato il cestino di castagne che sta su questo album. Ecco come l'ho dipinto. A fianco a questo cestino di castagne c'è questo ramo ed è stato dipinto così. Vedete? Questi due disegni li ho dipinti in alcune lezioni online. Se siete interessati a partecipare anche voi, sappiate che il primo corso è completamente gratuito. Se siete interessati, scrivetelo nei commenti. Vi ricordo che se volete acquistare gli album, trovate i link qui sotto al video. Grazie e vi auguro una serena giornata.